Grazie Presidente, colleghe e colleghi, governo, questo è l'ennesimo decreto legge che se per le misure volte a potenziale sostegno economico alle famiglie e imprese in relazione al rincaro dei costi delle energie parrebbe esserci il motivo di urgenza, non è così per le misure in materia fiscale e se manca il requisito dell'urgenza mancano le motivazioni per il corso allo strumento del decreto legge, vorrei ricordarlo anche perché il Colle l'ha già detto in precedenza, ma anche per la parte che vogliamo considerare urgente di questo decreto legge possiamo dire che è un decreto timido perché stiamo parlando di meno di 5 miliardi messi per il secondo trimestre 2023, quindi praticamente non c'è due senza tre, avete iniziato con la legge di bilancio, avete proseguito con l'austerity, avete proseguito con il DEF e continuate adesso con il decreto legge 34, solo che qui riuscite a fare molto di più perché a fronte di questo gettone infilate un'estensione di quello che è un vero e proprio scudo penale agli omessi versamenti, più tutta un'altra serie di misure che la mia collega prima ha citato, di queste però voglio citarne solo due per capire l'aspetto numerico, cioè allo stop con l'articolo 2, uno stop e l'aiuto in bolletta sostanzialmente Cuba 280 milioni, cioè quello per cui avete prorogato gli scontri della componente UG2C e li riducete però al 65% solo al mese di aprile e questo costa 280 milioni. Però poi dall'altro canto dove siete andati a intervenire sul taglio del contributo agli extra profitti energetici e questo vale 404 milioni, cioè voi intervenite nel difendere le aziende che hanno effettuato extra profitti e li coprite con 404 milioni e però alle persone, alle aziende, quelle che hanno bisogno del supporto energetico, negli dati 280. Già qua si vede la differenza comportamentale che avete nei confronti di chi ha veramente bisogno perché a intaccare gli extra profitti è molto meno invasivo rispetto a non concedere il supporto a chi ha necessità in questa fase di rincaro energetico. Ma arriviamo alla norma regina di questo decreto legge, cioè l'articolo 23, questo vero e proprio scudo penale per gli omessi versamenti. Qua per farla breve è un'estensione di una misura che era già prevista dall'articolo 13 del decreto legge 74 del 2000, cioè la possibilità della non punibilità per una serie di cause però che deve essere effettuata prima che si apra il processo tributario. Ora spieghiammelo meglio perché è giusto dare risonanza e spazio a questa vera e propria meraviglia di produzione legislativa. E lo faccio partendo da un'intervista, dall'audizione del professor Gatta, ordinario diritto penale della Statale di Milano, che in un'intervista dice che questa norma salva i evasori è un'istigazione a non pagare e ad aspettare i processi. Spieghiamo bene perché. Dunque, fino a ora, cioè fino a prima dell'emanazione del decreto legge 34, l'articolo 13 del 74 2000 prevedeva delle cause di non punibilità per il pagamento del debito tributario riservato a tre casistiche che sono le stesse di questo decreto, cioè l'omesso versamento di ritenute certificate, l'omesso versamento di IVA e l'indebita compensazione. Ora, le soglie non erano proprio quelle di un piccolo evasore e continuano a non essere perché parliamo di 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta per l'omesso versamento di ritenute, 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta per l'omesso versamento di IVA e su queste due la pena va da sei mesi a due anni e poi l'indebita compensazione è 50 mila euro annui. In questo caso la pena va da un anno e mezzo a sei anni. Quindi parliamo di cose non propriamente paragonabili a un reato comune o, vogliamo dire, a un'infrazione amministrativa di un'automobilistica. ora, quindi vorrei che fosse chiara una cosa, che qua parliamo di soggetti che hanno i soldi, che non li hanno versati o hanno effettuato delle indebite compensazioni ed è questa la cosa grave. Comunque questa non punibilità precedentemente scattava nel caso in cui si versavano integralmente gli importi dovuti. Lo si faceva entro un termine definito circostritto e comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ora, con la nuova e magistrale formulazione dell'articolo 23 invece, la non punibilità scatta prima che venga pronunciata la sentenza di appello. Cioè si concede un tempo molto più lungo, anche nel caso in cui il contribuente abbia addirittura perso il primo grado della serie. Portiamo avanti nel tempo il problema e l'eventuale pagamento. E poi qui c'è anche uno sconto, uno sconto mostruoso, perché se prima uno doveva pagare le sanzioni e gli interessi, adesso le sanzioni vengono ridotte a un diciottesimo. Quindi perché mai far pagare subito chi deve pagare? Cioè questo forse vi siete posti come problema, perché se prima c'era un termine di tre mesi, prorogabile dal giudice per massimo altri tre mesi, qui invece c'è una possibilità di rateazione fino a 20 rate trimestrali, cinque anni. Cioè il primo anno si consume nel 2023, più altri quattro anni. E la cosa ancora più grave di tutto questo procedimento è che non c'è un riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione del reato e nemmeno si fa riferimento alla sospensione del termine di improcedibilità dell'azione penale per superamento della durata massima del giudizio di impugnazione, quello diciamo l'estensione della norma Cartabia. Ora, è vero che si prevede la sospensione del processo e quindi in teoria si dovrebbero anche sospendere i termini di prescrizione, ma allora perché non essere chiari e scriverlo? Perché questo potrebbe dare adito a problemi di interpretazione e siccome qua parliamo di pagamenti non di piccole somme, ma di importi molto elevati, ci sta tutta la necessità, voglia, intenzione da parte di chi vuole pagare, avrebbe potuto pagare, non l'ha fatto e ora questa finestra temporale per agire, di poter posporre quanto più avanti nel tempo. E quindi, l'altro punto, ma a quando tovale questo scudo penale? Ma qui voi siete stati, signori del governo, estremamente magnanimi perché con questo decreto avete, è vero che c'è la possibilità di avalersi per chi ha richiesto la tregua fiscale, quella della legge di bilancio, ma voi? Non avete visto mai che magari qualcuno non ce l'ha fatto? Prorogate fino a fine settembre o addirittura a fine ottobre e ricordiamo ancora che non parliamo di piccoli evasori, per cui voi ricapitolando, l'imputato potrà decidere fino all'appello, anzi alla conclusione del giudizio di appello, se pagare o meno e chiudere il tutto e questo ha un significato ben preciso, permettere di effettuare calcoli strumentali a quegli evasori, potenziali e non. Quindi significa disincentivare il patteggiamento e eventuali altre forme di definizione anticipate del provvedimento. Che lo faccio a fare? Che pago a fare adesso se posso pagare quando praticamente sarà l'ultimo momento di possibilità? Anzi, qua c'è un altro problema, perché si disincentiveranno di fatto tutte le procedure di appelli con tanta buona pace di quello che è previsto e richiesto dal PNRR, cioè la riduzione entro del 2026 del 25% dei tempi medi dei processi penali. Quindi io devo dire un mio applauso, il mio applauso a questo governo e alla maggioranza che sta supportando questo governo, perché state premiando gli evasori, cioè siete in realtà di una coerenza disarmante, perché fate esattamente il contrario di quello che avete proposto, è detto durante la campagna elettorale. Cioè voi non state proteggendo le persone, i cittadini, le imprese, state facilitando l'evasione fiscale. E in ultimo, un riferimento alla bollinatura. Nella bollinatura di questo articolo 23, ed è qua c'è la cosa strana, c'è scritto che le disposizioni dei commi da 1 a 4 potrebbero incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare pertanto potenziali effetti positivi sul gettito che tuttavia potenzialmente non vengono quantificati. Questo è un capolavoro che non so come siate riusciti a ottenere dalla ragioneria, perché è vero la norma in sé non ha oneri perché le norme e le sanzioni non vengono cifrate, cioè non vengono calcolate, per cui se saltano le sanzioni non ci sono oneri per lo Stato. Ma leggere che potrebbero incentivare la definizione, quando invece proprio a causa di come è scritto questo testo, potrebbe succedere che si porti in avanti il termine della definizione della controvenza fino addirittura ad arrivare a delle cause di prescrizione? Non è certamente un gettito positivo, quindi possiamo dire che sia una norma, un'indicazione tirata per le orecchie alla ragioneria regionale dello Stato. Come la mettiamo con i costi di un processo che poi a un certo punto salta per aria a seguiti di pagamenti successivi? Cioè la magistratura incomincia a istruire un processo, si arriva al primo grado, si istituisce poi un appello, quindi ci sono tutta una serie di costi per lo Stato, poi all'ultimo l'evasore decide di pagare per salvarsi perché si rende conto che non ce la fa e quindi tutti questi costi chi li sopporta? Come si fa a dire che non ci sono oneri potenziali per lo Stato? Io ricordo sempre che nella scorsa legislatura per molto, molto meno, per dell'invii di un migliaio di e-mail la ragioneria ha detto che c'erano potenziali oneri per lo Stato e ha bocciato l'emendamento. Noi avevamo proposto tutta una serie di emendamenti, la collega l'ha detto prima non vado oltre, ne cito solo uno in aggiunta. Avevamo chiesto, c'è la norma dell'articolo 3 che permette di dare dei bonus ai clienti domestici diversi da quelli titolari dei bonus sociali, quindi di dare questo bonus. Bene, noi avevamo proposto, siccome la norma per il sistema elettrico non è come quella del gas, quindi è difficile poi andare a risalire sulla base delle situazioni climatiche. Abbiamo detto, ma fate fare questo all'acquirente uniche che è in grado di farlo. Avete bocciato persino una norma di facilitazione per una procedura che serve a questo Stato. Probabilmente così vi aspettate che le persone non ce la faranno e quindi ancora una volta spenderete meno per mettere questi soldi da qualche altra parte. Detto questo, le norme che noi abbiamo proposto servivano a dare supporto all'iniziativa, servivano a dare supporto a quei cittadini che voi a parole dite di voler tutelare, ma nei fatti lasciate nei loro problemi. Presi come siete dalla voglia di dare risposta a una fetta di Paese che evidentemente non ha a cuore davvero il proprio Paese, ma il portafoglio. E voi con loro. Per mettere uno scempio come questo che riguarda la punibilità, che non riguarda le piccole evasioni, ma degli importi così elevati, significa continuare a far pensare alla gente che l'evasione fiscale non debba essere concepita come un allarme effettivo per questo Paese. Perché voi nel DEF non avete messo praticamente nulla, a parte le parole, per cercare di recuperare quei 100 miliardi che ogni anno ci perdiamo. Anzi, oggi aggiungete la ciliegina di sulla torta che è una vera e propria stigazione d'evasione. E concludo Presidente dicendo che io non so quando questo Paese si sveglierà e capirà l'errore madornale che è stato fatto a settembre dello scorso anno e mi riferisco a quelli che non sono andati a votare, ma a tutti quelli che hanno votato questa maggioranza. Grazie. Grazie.